E ancora una volta siamo tornati qui con un nuovo Funny Moments in compagnia di Colaf Che ne ha combinata un'altra delle sue ma il nostro eroe John Cena Riuscirà a prendere i big money Comunque niente siamo tornati finalmente su un nuovo Funny Moments Ragazzi spolliciate perché a 40.000 mi piace ci sarà subito un altro episodio Mi raccomando suggeriteci le storie da fare qua sotto nei commenti Potete chiedere tutto, tutto E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui a casa dei miei nonni omosessuali Mi si sono appena rotte le gambe Ciao nipotino Ciao nonno blu Hai mangiato? Si ho mangiato Non la vuoi la paghetta? Si la paghetta la voglio Sgancia Paga Vuoi le tagliatelle? No no solo soldi Chi ha le tagliatelle Ma tu l'hai mangiato oggi? Io ho mangiato porca miseria Non l'ho mangiato Non l'ho mangiato Andiamo a preparare Ma dov'è la cucina? Tu te la ricordi dove è la cucina? C'è un troppe stanze qua dentro Ragazzi I miei nonni sono rincoglioniti Forse è qua dentro la cucina Ti tieni i soldi in cucina? Oh cazzo! Hello! Ecco dove era finito quel simpatico pupazzo di Natale che ci ha portato alla posta ieri Che cosa desiderate? Soldi Bene C'è nella stanza giusta La stanza degli youtuber C'è Stepney Esatto C'è Stepney RegolaStep90 Marcus Krohn Un tizio che non conosco Lion E C'è Lion Ancora una volta Ciao! Questo qua le mie cuffie Sono io Questo è Favij Come Favij Favij ha le mie cuffie E infine Abbiamo Dexter Ma non si vede Qua dietro Censurato da me Perché? Perché fai schifo Quello è già Ampitech Cioè questi sono tutti youtuber che guadagnano un sacco di soldi Ma i soldi veri dove sono? Nelle casse Ovvio Apri la cassa Dexter Aperta Ma che cazzo Siamo Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ehm Ehm Colaf Ti senti spaisato? Sì Paura? John Cena? Ehm Dove sono i soldi? Scusami In questa Valigetta Però mi devi spiegare perché c'è Kermit la rana che gioca a Minecraft Benvenuti in questo nuovo gameplay di Minecraft Io sono un fan di Lion Ora costruisco le case Lo abbiamo evocato nella stanza degli Youtubers E quindi? Abbiamo parlato di Lion e di Stepney Abbiamo evocato lui Dannazione Il mio cugino Kermit Fatelo smettere di costruire cose E lui? Chi cazzo è? Chi cazzo è lui? Eh, hai presente i vecchietti di prima? Sì I miei nonni Beh, si sono fusi Ah, ed... E questo è il magnifico risultato Nonni? Sì, siamo qui No, eh, dai Già Sono proprio loro Non ci sentiamo tanto bene L'eredità ora è tutta mia Me la puoi dare Kermit? Ma prima? Prima dovrete attraversare questo percorso Muahahahaha Kermit Eh, sì Guarda mentre si chiude Ciao Ciao Fregate KOLAF Oh, KOLAF Ah, ah Oh mio Dio Basta fare questi scherzi Regà Abbiamo Un ospite Chi è? Eh Gli sta facendo una tomba Beh, addio Vai Vai, vai Ma io ho paura Vai, vai Vai, c'è Ti sta Aerobrine Oh, addio Something behind this wall Something è scritto Oh, ah Ah Dov'è? Dove siamo finiti? Aerobrine Ne ho idea Che bello Io volevo solo i soldi però, KOLAF Questo bunker è stato costruito nel 1940 Eh E sti cazzi? Eh, sti cazzi non ci li metti Eh, sti cazzi non ci li metto Basta giocare a Minecraft dentro questo bunker Basta Per favore Certo che tuo cugino KOLAF è proprio un dito al culo Vero? Le ringrazio che non sia una mano intera Io non ho ancora capito perché siamo qua dentro Oh Cazzo è stato Oh Chi è che ho mato KOLAF KOLAF Che cazzo fai? Credo di essere drogato Chi è quel signore molesto? Perché? Siamo in paradiso Siamo ancora qui, aiuto ragazzi Vedo la nuca di John Cena Siamo tutti e quattro uniti In un unico corpo Per l'amor di Dio È orribile Io sono il culo Non ne avevo dubbi Io non entro in questo buco di culo Oh, un buco di culo Ci penso io Vai nonno Nonni 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 Non dimenticarti di me Figliolo imbecilio Sono tuo nipote, non tuo figlio È uguale Nonno Come mai Oh cazzo Nipotino 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 Nonno No No Ciao No 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 È chiusa questa porta Ci penso io Oddio Perché Kermit deve giocare sempre a Minecraft? Ha rotto il cazzo Ai miei tempi non si giocava a Minecraft Quel gioco è il demonio Ai miei tempi si faceva il muratore Questa porta è chiusa Chi ha le chiavi? Io Aprila Non giocare a Minecraft tu Resta là Resta là Vietato giocare a Minecraft Possiamo andare avanti No C'è una sedia Sedetevi intorno a me nipotini Vi racconterò una fiaba Sparagli No No Volentieri Grazie Grazie Gola Bene Andiamo avanti Qua c'è qualcuno morto C'è la tizia morta La tizia morta è scomparsa Beh Qualcuno al morto lo deve pur fare Regà Ho mangiato Ho bevuto troppa birra Che cazzo Qualcuno ha chiesto aiuto Aiutateci Siamo nello scantinato Ah Questi vecchi che dimenticano sempre le chiavi fuori dallo scantinato Dove è lo scantinato? Ok Siamo nello scantinato Cazzo Sei chiuso la porta Se l'è mesto chiuso fuori Nonni? What the fuck is happened? What the fuck? Sì Siamo fottuti Decisamente fottuti Sapete cosa possiamo fare qua? Giocare a Minecraft C'è molto spazio Nebbia Nebbia E ancora nebbia Ah Siamo a Milano Cazzo figa cattoletta Kermit Vai ad aprire quella porta Oh Oh Sì A me Kermit Eh che cazzo Nonno Nonno Era il mio vero nonno 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 dove sei? Nonno nonno eccomi Sono qui Dove sta andando Dammi i soldi Finalmente la paghetta Sì Sì Anche io voglio un po' di soldi Sì Dove sono i soldi? Bene Colaf Ora che abbiamo finito questo labirinto I soldi dove sono? Credo ce li abbia Kermit Io li ho spesi tutti in donazioni sui server I soldi che mi ha dato Colaf Bene ragazzi Sono lì Ho trovato i soldi Quindi Mi piace Prossimo episodio Noi ci vediamo prestissimo Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Facebook Instagram In descrizione Iscrivetevi al canale